L'apparato locomotore è formato da una componente passiva composta da scheletro, ossa e articolazioni. Una componente attiva che è il sistema nervoso che dà lo stimolo a muovere tutto il sistema muscolare che poi a sua volta attraverso il sistema di leve sarà in grado di muovere i segmenti corporei. E' una componente funzionale che sono tutti quegli organi e gli apparati coinvolti nell'assunzione, la rielaborazione e lo smaltimento dell'energia, quindi il sistema cardiorespiratorio, digerente, oltre che il sistema immunitario e in ultimo il sistema endocrino. Noi parleremo delle componenti passive in questa lezione. Le componenti passive sono quelle che mantengono l'equilibrio del corpo e ne permettono il movimento e sono l'apparato scheletrico e l'apparato articolare. L'apparato scheletrico è formato da ossa che tutte insieme formano lo scheletro. Definiscono la forma del corpo, noi siamo più o meno alti in base alla lunghezza delle nostre ossa. Inoltre dà sostegno al corpo, senza le ossa non staremo in piedi, cioè la struttura ossea è quella che ci dà la possibilità di mantenere determinate posizioni ed essere, contrastare la forza di gravità. Protegge inoltre gli organi interni e le parti molle, è un chiaro caso la scatola cranica che protegge il cervello o la gabbia toracica che protegge tutti gli organi interni. Insieme ai muscoli e alle articolazioni rende possibile il movimento. Le ossa sono delle strutture rigide che quindi mosse attraverso un sistema di leve permettono tutti i movimenti del nostro corpo. All'interno delle ossa vi è il midollo osseo che produce globuli rossi e un certo tipo di globuli bianchi. L'apparato scheletrico è formato da 200 ossa, circa 204. Abbiamo una parte che è il cranio con tutte le ossa del cranio, una parte centrale assiale e poi tutta la parte appendicolare. Le ossa sono divise in ossa lunghe, vediamo qui un tipico esempio, un femore, l'osso più lungo che abbiamo nel corpo umano, con le due parti distali, cioè quelle alle estremità chiamate epifisi, e una parte centrale chiamata diafisi. Poi abbiamo le ossa corte, un tipico esempio è una vertebra. Si dice osso corto quando il diametro longitudinale è uguale a quello trasversale, mentre le ossa lunghe sono quelle per cui il diametro longitudinale è molto maggiore rispetto a quello trasversale. Vi sono poi le ossa piatte come la rotula o patella o la scapola che vediamo qui rappresentata. Tutte sono formate da tessuto osseo, cartilaginio e da midollo osseo. Ogni osso è rivestito dal periostio. Il periostio ha la funzione di proteggere la superficie dell'osso e nutrirlo, quindi fargli arrivare tutte le sostanze che sono necessarie all'osso per svilupparsi, crescere e aggiustarsi quando ci sono delle piccole lesioni. All'interno dell'osso vi sono gli osteociti, cioè le molecole di tessuto osseo, i sali minerali e la sostanza fondamentale o osseina. La quantità di osseina o sali minerali varia con l'età. Nelle persone anziane vi è una maggior quantità di sali minerali rispetto all'osseina. Questo conferisce all'osso una certa rigidità. Al contrario, nei bambini l'osseina è prevalente e questo permette alle ossa di essere molto più elastiche. Questo per esempio è uno dei motivi per cui un bambino che cade è difficile che possa crearsi una frattura. Una persona anziana invece, avendo l'osso molto più rigido, meno elastico, nel momento in cui subisce un trauma, è più facile che possa esserci una frattura. Nella parte interna delle ossa vi è il midollo osseo, che produce globuli rossi e alcuni tipi di globuli bianchi. Le ossa lunghe hanno una parte terminale chiamata epifisi e una centrale chiamata diafisi. Le ossa sono 206, connesse da articolazioni e legamenti. Lo scheletro possiamo suddividerlo in una parte assiale, cranio, colonna vertebrale e gabbia toracica e una parte appendicolare, che sono gli arti superiori, il bacino, le scapole, poste posteriormente alla gabbia toracica, e la clavicola, che sono una destra e una sinistra. La colonna vertebrale, o racchide, è formato da 33-34 vertebre. Possono essere 33 se le ultime due vertebre coccigie sono saldate a formare un unico osso. Le vertebre sono delle ossa corte, sovrapposte le une alle altre, e in base alla zona dove sono posizionate si distinguono. Abbiamo una prima parte, quella del collo, con sette vertebre cervicali, che hanno le caratteristiche di essere più piccoline come tipo di osso e con un canale vertebrale più ampio. Poi abbiamo le vertebre toraciche, sono 12, come sono 12 paia anche le costole. Questo perché le vertebre toraciche devono dare l'aggancio, l'articolazione, alle costole, che anteriormente poi si salderanno sullo sterno. Poi abbiamo 5 vertebre lombari, quelle più sostanziose, quelle che hanno un corpo vertebrale maggiore, perché devono sostenere un peso importante. Dopodiché il peso si scaricherà sugli arti inferiori e quindi le vertebre sacrali e poi quelle coccigie via via diventeranno sempre più ridotte come dimensioni. Fra una vertebra e l'altra vi sono i dischi intervertebrali. Sono dei dischi formati da un tessuto connettivo e da cartilagine. Vi è un nucleo polposo contornato da un anello cartilagineo. Servono a distribuire in modo ottimale il peso e permettono il movimento tra le singole vertebre nel modo ottimale. Sono praticamente degli ammortizzatori posti tra un corpo vertebrale e un altro. Quando si sente parlare di hernia al disco è proprio quando uno di questi dischi fuoriesce posteriormente alla vertebra e va a toccare il midollo spinale creando dolore. La colonna ha delle curvature fisiologiche sul piano saggitale, cifosi e lordosi. Queste curvature fisiologiche servono a distribuire i carichi e ad ammortizzare gli impatti e i carichi durante il movimento, anche se un'accentuazione eccessiva di tali curve può diventare dannosa. Sul piano frontale le curvature sono paramorfismi o dismorfismi, cioè possono essere modificabili nel caso dei paramorfismi con esercizi posturali eccetera, o dismorfismi quando la situazione diventa più grave e si necessita di interventi o chirurgici o con busti, gessi e cose di questo genere. Quindi sono molto dannose. L'esempio è la scogliosi che tutti più o meno abbiamo in forma leggera. Quando la scogliosi si aggrava molto bisogna intervenire. Qui vediamo a sinistra un caso di scogliosi doppia con curva a sinistra toracica e curva a destra lombare. Una scogliosi doppia di solito è quella meno grave, più facilmente trattabile e recuperabile, ma anche quella che dà meno problemi. Qui vediamo a confronto invece una schiena bella rettificata, bella dritta. Caso invece di scogliosi triple o singole, cioè o con una curva ampia, unica o con tre curve, la cosa si diventa molto più complicata da recuperare e più delle volte è necessario intervenire chirurgicamente o con gessature o con busti che portino l'assetto della colonna in un modo ottimale. Vedendo il corpo di fianco invece, anziché frontale, possiamo vedere le curve fisiologiche della colonna. In questo caso possiamo vedere la lordosi cervicale a livello del collo. Già passandosi una mano dietro la nuca e scendendo in giù si sente come questa curva del collo sia già pronunciata. Si forma quando il bambino comincia a sollevare la testa e quindi i muscoli della parte posteriore del collo cominciano a tirare la colonna e le altre compaiono per compensare questa curva, quindi la cifosi toracica per mantenere la stazione eretta e mantenere la vista parallela al terreno per poi avere con la stazione eretta il sorgere della iperlordosi lombare e la cifosi a livello coccige sacrale. Queste curve possono diventare esagerate e quindi diventare dei paramorfismi. In questo caso vediamo qui un'ipercifosi, potremmo chiamarla comunemente gobba, o un'iperlordosi. Chiaramente queste curve portano delle compressioni a livello di colonna vertebrale che possono essere anche dolorose. Qui vediamo come le vertebre abbiano sostanzialmente una forma simile tutte quante, ma a seconda della zona in cui sono posizionate avranno delle peculiarità. Per esempio nella regione cervicale vediamo che abbiamo una parte, il cosiddetto corpo vertebrale, più piccolo perché deve sostenere meno carico, meno peso, mentre una vertebra lombare avrà un corpo molto ampio perché deve scaricare maggior peso e scaricandolo su una superficie maggiore è chiaro che il peso per millimetro quadrato diventa minore. Questa è una visione di una vertebra vista dall'alto. Lateralmente vediamo il corpo, vediamo le apofisi trasverse qui, eccola qui, anche sotto una toracica e poi il corpo vertebrale, l'apofisi trasversa della vertebra lombare. L'apofisi spinosa che è questa spina, tutte queste apofisi servono a dare aggancio alle muscolature del dorso, non sono altro che quella parte di vertebra che noi passandoci la mano sulla schiena possiamo sentire sotto pelle. Quella lì, altro non è che l'apofisi spinosa, la punta, quella che fa male quando rotoliamo per terra se non c'è una superficie morbida. Vedete che c'è un arco che congiunge il corpo con le apofisi e in mezzo si crea un canale detto canale vertebrale. Questo canale vertebrale dà lo spazio per far passare il midollo spinale. Midollo spinale che è molto differente dal midollo osseo, infatti il midollo spinale è costituito da tessuto nervoso e serve a trasmettere stimoli nervosi in tutto il corpo. Invece il midollo osseo è quella sostanza che produce globuli rossi e globuli bianchi all'interno delle singole ossa. Quando si parla di trapianto di midollo mi raccomando ricordarsi che il trapianto di midollo avviene per il midollo osseo, non per il midollo spinale che non deve essere assolutamente toccato. Ecco, qui vediamo il funzionamento dei dischi intervertebrali che sono posizionati tra un corpo e l'altro di ogni vertebra con il loro nucleo e in caso di compressione, di carichi sono in grado di ammortizzare l'impatto per poi tornare. Avendo una grossa componente di acqua se li stressiamo per esempio negli atleti un allenamento di sollevamento pesi molto importante possono disidratarsi e quindi perdere un po' di quantità d'acqua a tal punto che un atleta può ritrovarsi anche un centimetro un centimetro e mezzo più basso di statura al termine di un allenamento molto stressante. Non è un problema perché poi quando andremo a dormire e la muscolatura si rilassa e la colonna potrà distendersi i dischi si idrateranno nuovamente e torneranno alla loro conformazione naturale. In questo video possiamo vedere come i singoli movimenti tra una vertebra e l'altra non siano di grande ampiezza ma la somma dei singoli movimenti moltiplicata per il numero di vertebre ci permetta ampi gradi di movimento su tutta la colonna sia in flessione avanti e indietro sia nelle estensioni sia nelle rotazioni e nelle torsioni. Qui vediamo le due vertebre in questo caso sono due vertebre lombari con l'intercapedine del disco intervertebrale con il suo nucleo qui giallo abbiamo visto come ci fosse la radice nervosa che usciva posteriormente vedete il disco è elastico è frapposto tra le vertebre e permette questo ammortizzamento di movimento quando abbiamo dei carichi sulla colonna vertebrale vedete anche in questa immagine come questo sia il corpo vertebrale qui ci sia l'arco le apofisi spinose qui e l'apofisi trasverse tutte queste protuberanze danno la possibilità ai muscoli di agganciarsi e creare delle leve positive per svolgere i movimenti necessari alle varie vertebre che compongono la colonna vertebrale vedete questo è l'arco che viene indicato e qui internamente si crea il canale vertebrale o il forame vertebrale all'interno del quale scorre il midollo spinale vedete che c'è proprio questo canale che si forma posteriormente quindi diciamo che la parte anteriore è questa qui che vediamo adesso posteriormente abbiamo l'apofisi spinosa e nel caso delle vertebre toraciche vedete l'aggancio delle costole che si agganciano posteriormente alla colonna vertebrale attraverso delle faccette articolari e anteriormente le prime dieci coste vanno a fondersi con l'osso dello sterno anteriormente a creare questa gabbia che ripara gli organi interni cuore, polmoni, fegato la sovrapposizione delle singole vertebre quindi crea il canale all'interno del quale vi è il midollo spinale un fascio di tessuto nervoso che scende dal cervello e raggiunge poi diramandosi nei vari nervi tutto il corpo per raccogliere stimoli e trasmettere stimoli nervosi per il movimento qui vediamo come dal cervello scenda i nervi cranici che escono e irrorano diciamo innervano tutta la parte del cranio e poi il midollo spinale con tutti i nervi che fuoriescono tra le singole vertebre fino al nervo sciatico che vediamo qui che arriva fino al piede che fuoriesce tra la seconda e la quinta vertebra lombare quando si parla di lombosciatalgia si intende l'infiammazione del nervo sciatico o ischiatico che può creare dolore sia a livello di schiena ma anche a livello della gamba a livello del piede non sempre il dolore del piede dipende dal piede può dipendere magari da una ernia al disco cioè questo disco che è fuoriuscito per uno sforzo o per un movimento atipico anormale ed è andato a comprimere o a toccare i nervi che sono posti posteriormente al disco stesso nella bibliografia possiamo vedere come le immagini sono state recuperate dai test in adozione nella scuola praticamente sport e sullo sport mentre il video illustrativo è stato tratto da youtube al seguente link grazie a tutti Grazie a tutti